Musica Marianese e Argentana condividevano una posizione di classifica più o meno similare così come analogo era stato il cammino di queste due formazioni in questo campionato di eccellenza entrambe partite male ma con la capacità di riprendersi dopo gli stenti iniziali e trovare una velocità di crociera utile per avvicinarsi alla zona salvezza la sfida di quest'oggi dunque di San Giovanni Marignano poteva dare utili indicazioni in tal senso qualora una delle due formazioni fosse riuscita a portarsi a casa l'intera posta in palio ci ha provato la Marianese nella prima parte della match siamo alla sesto minuto il lancio di Conti per Ottaviani si inserisce al centro dell'area di rigore Fabri ma c'è l'uscita provvidenziale da parte di Pio Baccari eravamo al sesto ma ci spostiamo di appena un minuto ancora sulla destra attaccare la Marianese, altro cross per il colpo di testa di Fabri che dà solo l'illusione del gol al pubblico di casa vicina alla rete la Marianese ma l'argentane squadra capace di mettere in difficoltà le proprie avversari recuperando il pallone a centro campo come in questo caso l'assist per Pagani che va a sfiorare il palo alla sinistra dell'estremo difensore della Marianese di Tommaso con le immagini adesso ci spostiamo in maniera più ampia siamo al 41esimo minuto ancora il rinvio da parte dell'estremo difensore dell'argentana Pio Baccari una serie di batti e ribatti alla fine mette ordine con questa battuta senese che va a sfiorare la porta quantomeno va vicino al bersaglio grosso era questa l'ultima vera chance di un primo tempo povero comunque di spunti e di cronaca ma neppure nel secondo tempo il refrain del match cambierà c'è la Marianese in attacco con il cross di Fabri il colpo di testa di Pensalfine che colpisce male anche se aveva scelto perfettamente i tempi di inserimento andiamo al 61esimo ancora Santoni che mette in profondità c'è ancora il numero 16 a tenere vivo il pallone ma non si capisce con Fabri e alla fine l'azione sfuma ultima chance è alla 72esimo minuto dopodiché le squadre si chiuderanno sostanzialmente a Riccio ma questo colpo di testa di carne secchi è sicuramente pericoloso niente da fare per lui perché il match termina con questo punteggio Marianese 0-Argentana 0